Mi spiega bene queste parole su Lanzalone, che ha detto che è stato un premio metterò la scena. Un grande malinteso, però l'hanno portato i suoi ministri, Lanzalone. Ho già risposto. È malinteso questa parola. Ovvero? In che senso? Grazie. Non ha paura che questa situazione possa favorire un po' la Lega, anche in queste amministrative, oggi qui per le amministrative. Non gli fate male. Eh, lo ho capito, ma perché mi dobbiamo? Eh, Di Maio. No, di me, basta.